Il comune di Prato la Pelinia, la ribalta internazionale sulla CNN con il progetto case a un euro. Il comune ha rilevato 630 immobili degradati che necessitano di ricostruzione. Attualmente in vendita sono quattro su tutti vi è possibilità di fruire degli incentivi edilizi per la ristrutturazione ecobonus e sismabonus. L'amministrazione ha approvato il regolamento della vendita a prezzo simbolico delle case a un euro per dare l'avvio al recupero alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della cittadina. Accedendo al siro del comune si possono visualizzare i primi immobili messi a disposizione dei proprietari che non vogliono non possono più investire sulle strutture. Si tratta di abitazioni su più piani con tre o quattro vani alcune anche sprovviste di cantina. Il lavoro costante attento su una tematica complessa per il tessuto sociale della comunità sta avendo i suoi risultati con il perfezionamento degli atti di acquisto dell'immobile a un euro l'avvio della loro ristrutturazione. Questo ci rende soddisfatti come amministratori ci spinge a lavorare ancora senza sosta commentano il sindaco Antonella Di Nino l'assessore Paolo Di Bacco.